Per quanto riguarda il Best Beer Pack, quindi la categoria packaging, ci siamo concentrati essenzialmente sulla monomaterialità, quindi il fatto che non ci fossero packaging in materiali misti, quindi carta e plastica che poi dopo non sono riciclabili, quindi veramente al primo posto abbiamo tenuto la sostenibilità. Poi chiaramente l'eco design inteso anche come possibilità appunto di scomporre il packaging, riciclarlo eccetera eccetera e ovviamente la funzionalità, quindi il pack non deve essere solo bello ma anche proteggere l'oggetto, permettere di trasportarlo agevolmente e ovviamente la qualità intesa come ricchezza di design, di nobilitazioni, di tecniche di stampa e di progettazione proprio anche grafica. Fedrigoni è un gruppo internazionale produttore di carte speciali, materiali adesivi e carte di sicurezza e produttore di carte dal 1888, quindi una lunghissima tradizione. La nostra missione come azienda è quella di elevare la creatività, elevating creativity, quindi supportare designer creativi, brand, stampatori, cartotecnici nella realizzazione di progetti bellissimi in carta e con le nostre etichette. Chiaramente avendo questa missione supportare i concorsi che premiano la creatività e il design per noi è assolutamente fondamentale. Per questo anche quest'anno siamo qui ad Hospitality, da diversi anni per le etichette e per il secondo anno invece anche per il packaging, perché crediamo che comunque valorizzare e nobilitare la bottiglia, quindi il packaging anche secondario, sia un elemento per veicolare valore, creare valore percepito nei confronti di un prodotto.